Bella a tutti ragazzi, io sono TheGameOn3D e oggi siamo su un nuovo video con noi c'è The Clipper Bella a tutti ragazzi che... Oggi giocheremo a FIFA World e mi sono modificato un po' la squadra con Nyengolano centrocampista e Morgan DeSantis poi dovremmo comprare il Mesharao a sinistra e qua a destra l'obiettivo di oggi è comprare il Mesharao Vabbè, visto che abbiamo 4877 crediti, io direi di fare una partita e poi andare a comprare Sharao e poi se ce la facciamo... Quadrato, ma non ci riusciremo mai perché costa 10.000 Comunque la cosa buona è che costano di meno i giocatori perché tipo, rispetto all'Avlenio, Mark costa pochissimo, costa solo 256.000 crediti Perché... Costa un milione... C'è Questa è già, non so se c'è una squadra tipo, questo è un Geraldo, adesso Questa è già essicurata qua, sennò qualcuno è prima Allora, questo qua c'ha... Un Udreda Madrid Un Udreda Madrid Un Udreda, dico, bubba No, non è porto porto No, quello mi sa che è Lora Castilla Quale? Questo? Questa è la Maria Castilla Un Udreda Madrid Un Udreda Madrid Sì Allora Non so se si chiama Torea Madrid però c'ha tipo un stimma del UoV Sì, fa un UoV UoV Ma... Tu come l'hai chiamata? FC Rider Ah, ok Sf Ok, ok, quindi ora... Eh, l'animazione, bam! Il tiro di merda Un UoV Un UoV Un UoV Questa è quello? Guarda che c'è Rubinio Questa è un attimo che devo fare una cosa Eh Parti Vai Parti Vai Vai Rubinio Questa è questo in mezzo Il questa è in mezzo L'Igolo 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 Vabbè, dai, è stato bello Ovviamente il lag assurdo Si, bam! Ma che conti la l'angolo Quei cazzo di merda Al ritrovo mazzo Ci ha capito cazzo Morio de' meno Grande Silve... Ma che cazzo fai a body? Sto levantato da body Nooo, non usciti così Eh, questo qua d'affa Nooo Eh, d'affa Eh, d'affa Eh, d'affa Eh, d'affa Guarda stai cipesi No, 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 no Cazzo che merda Park, è un park questo Park Young GL Eppure fallo Ma che fallo? Eh, io dico sempre che fallo Che problema Il 90simo ragazzi Il 90simo Oh! Lorenzi Zinghre! Bastardo pezzo della vita No, no, dai, devi spostare E che pezzo stavo È il 90simo Finisce la partita Muotemelo a te Dai ragazzi Un a un Falculo, falculo Ma nel precedente senso di che hai fatto? Ho vinto Ho vinto Sì, veramente Tu lo giuro Oh, guarda Ah, no, come c'è avuto tutto il sesso lui Io, ma che te lo guardo? Ah, no, ero io Che cazzo sto dicendo? Oh, ho vinto Ok, siamo arrivati a 5800 Oh, 600 euro Level up Che vuoi aprire? Un pochetto? O comprare... C'era qui? No, eh sì Io compro questo gran caso Costa 10.000 C'era qui Oh, pack opening Sì, veramente Come hai idea? Ti lo giuro, eh Costa 10.000, facciamo un pack opening Allora, abbiamo un pochetto da 5.000 o da 5.000? Non da 5.000 Pack opening Allora, ragazzi Abbiamo un pochetto da 5.000 Ohhhh Vediamo che c'era qui Vediamo che c'era qui Vediamoci 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 Storari Che cazzo Ah la fa Guarda qua Non so come cosa è brutto Mortacci tua Non dopo sei cito Sono uscito da chance Oh sto rari però Vediamoci Cosa? Oh Marion Bros E il caffè 80 di velucità Da 80 di divano Vi iniziava bene no no ma perché c'è scritto diva diva qua pace ma non è un portiere si è un portiere no che cavolo di chi è si è un portiere ma guarda quanto ci dà però se lo vendi tutto vabbè ma che ci dà questo lo mettiamo alla lista trasferimenti perchè è la ripa guarda quanto vuole sto orario quanto vuole confronta bio bio dico bio non vedi quanto vuole ah no non lo vedi più speed 46 madonna che merda ma un portiere lo sai vai vedelo ma perché io non me lo ricordo che cos'è chiesto orario ma è un portiere eh no vabbè ah la formazione vabbè non ci abbiamo qua durante però al formazione bene che su qua te volessi inutili cm e metilo? allora questo faccio story in club ok ah poi lo scambio? si io lo metto come centrale insieme a Naikolan e dipende? si ok e questo episodio? ma adesso dico uno e mezzo virgola eh? adesso dico uno e mezzo ma ho correggiato una partita uno e mezzo vabbè dai questi bisogni quindi è finito? si ma adesso facciamo la politica si io te eh eh ok 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 necroni no che palle dai quella un'altra volta che cazzo ok necroni player swap questo ecco il bernard mi crone vai c'è da brutto però questo non vuoi se ne c'ha ma va va impossibile però ci seguiamo la mia ola del sedile no che cazzo no 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 ma che cazzo dove va? guarda questa è quindi la tua squadra giorgita ah ma questo gli mancava il contratto si ma tanto l'hai preso e lo metto a posto di questo a posto del cinesino eh? e tanto poi devi rinnovare un cartite lo so ci no ah infatti ne ho trovati questo e lo do pure per me chiuso e lo so appiconsumable va bene ragazzi aspettate vabbè no mettico la gente vabbè lo terminiamo qui dai ci vediamo al prossimo video bella ragazzi bella 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 ciao mamma